musica 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 ma bella a tutti ragazzi eccoci con un nuovo video oggi siamo su wild adventure io sono come sempre, sono still raccoon e oggi siamo in un video molto speciale, non scherzo siamo in un video cos'è la cazzo cioè la cazzo, ciò per divertirci un po' perchè sono tipo tornato dalle vacanze e vorrei farvi un paio di video visto che non c'ho cazzo da fare sono due settimane, una settimana in vacanza bello orkut madonna ma magari devi lagare? si boiler, ma che nomi di merda sono vi spiegate? boiler che boiler della micchia sto caraio porterà anche dirt tree quindi spero che non mi lagga intanto non sta lagando bene sono molto contento di sta cosa allora io devo tirare l'altra chest dove cazzo è l'altra chest? non nemmeno che so dove cazzo sta? eh no eh, minchia io ci sono legno no è impossibile si bello si bello anche ah ma questa non è mai ancora vista enderman ok urkuli bene va scatti ok ci ha messo un'azienda quello è fermo ah ah perché se mi muovo io lagga c'ho lo shift si guarda come cazzo lagga ok ok non lagga più ok ho capito non lagga più perché tipo adesso sto andando oggetti si muove bene 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 allora io direi di fare una bella scappatella in centro se quello arriva prima ammazza qualcuno scappiamo ok quanti siamo? tre giocatori uno sono di quelli dai 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 uh arco vai 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 perché posso uccidere l'altro mettimelo qua no ste cover di merda preso vai meno uno ah ma c'è un altro su di roll no però c'è dentro di bella un cazzo ci sono delle frecce tutte le frecce si cazzo ok quello mi arriva da sopra lo so già dov'è? tanto lo so che mi arrivate da sopra tutti tanto è però un arco e vai no uh guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì dai e spuca e spucati spucati t'ho pigliato e buca no merda troppo alto merda non dar più in alto merda dai salta c'è un blocco in più ecco mi manca uno dov'è? ah no due giocatori sono solo io lui però sono in netto vantaggio dai che l'ho pigli alza tipo merda oh l'ho pigliato merda fai ancora merda spostarmi un po' più di lato no così ok ok doppia riparazione così ti piglio bene quante frecce ancora? merda merda cazzo adesso vi faccio un attacco alla sopra mi sono rotto la palla e il buco giù tutta la lava guardate guardate 3 2 1 puff ucciso e lui vince la precisione la precisione la precisione o c'è ancora uno? no dovrebbe essere crepato ancora vivo? eh ma dai allora allora sei stronzo quanto adesso ti piglio bene perchè tanto sono sopra di te guarda che sale morto male no si 1 a 0 prima partita vinta aia madonna madonna ma perchè si è aperto? si è aperto una pagina così la cazzo aia sta mappa la odio la odio ammalamente per ritrovare cose belle madonna la precisione bello iniziamo bello 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 oh si spada mandare un po' fuoco alla gente tac e stivaletti andiamo a mettere ancora spada lì è sceso qualcuno io direi salire sinceramente ok io proverò una molte cose ah eh dovrei farmi un pick one non lo faccio invece uh da lì non è sceso nessuno vai spuca ecco eccolo il piccone l'avevo bisogno scendiamoci eccolo c'è sotto niente bello ok ok e qua non c'è niente altro quindi mettiamoci un piccone quella parte merda ecco ecco qua uh c'è altra gente su lì se riesco a pigliarlo merda ah io non c'ho flame però cazzo se mi si è fermato che mira guardalo 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 merda cosa mi guardi? cosa mi guardi? oh anche lui si guardalo nemmeno tolno in centro nico programmer che nome di merda tiziano gamer che nome di merda tiziano gamer ah minchia oh scendiamo a vedere chi c'è no ma io non sono nell'acqua ok ho chiuso il buco no 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 ancora tu ma sono qua eh no non cadere cazzo lui ha vinto guarda un po' teo guarda che poi non sa perchè lui lagava dai ma oh oh ah 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 vai, allora me la do, non, 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 dai, ok ci sono, scendi, ah ma questo qua l'ho già fatto, ma per cosa mi serve? ok posso farmi, ok ma non ho la legna, ma io ce la lascio ok, le posso farmi già, bene no vabbè, allora già che siamo qua, attacca no, no sono col più, cazzo è stato, ma quelli fanno team, dai vieni, ah sfigato, sai proprio giocato, muori ma, cazzo ce n'è uno con la scu, merda, porca, uno è morto, ok, però ancora un colpo di fece mi suicida, oh andiamo solo per cacciare il ponte, fatto, vero, come ha fatto, mi spiegate, no sono più svegli di te, no, sono pirna, sono pirna, sono pirna, porca, ultimo, per questo video è l'ultimo, perché sennò, dai lo facciamo ancora due, devo vincere a prosto qua, o meno arrivare sul podio, porca troia, ho fatto una morte da coglione, poi c'ho un mucchio di video da editare, ah se non parlo è perché sono concentratissimo, quindi, quindi ce n'è già uno, ah questa qua è quella la prima, in cui ho vinto, è vero, c'è ancora quel figlio di puttana, cazzo però non ho niente, ah ma è su lì l'altra c'è, ma chi cazzo lo sapeva, eh non c'ho solo, ah mi dai solo una pozione della salute, non mi saremmo, ne merito certo, cibo non mi serve, io direi, me la sparo in mezzo, l'unica però non mi serve, no me la sparo di qua ok, ok, ok ok, fermi tutt'icolta, FIGョDIPUPARA B Access tempo allo ecco ok, dai un altro uppatemi, cazzo tre vittoria sono fatto, opsох , dirti quanti punti ho, oh sta quello di prima qui , quel figlio di puttana, ma distrutto perchè team scusate per la stanchezza ma rifare sta facendo un po' di merda ultima partita di oggi dai spucati mi avanti non mi serve e me ne fece però bello ecco merda io non cazzano niente questo ah fammi fare un picco una spada ah stai già venendo qua eh figli di buona donna farla un po' te cosa dobbiamo fare volentemente zero ecco ecco madonna il culo fai due stecchini veloce tanto non mi puoi far cadere dai dai mi sti stecchini vabbè per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao